La città di Lucca come naturale set per le produzioni cinematografiche è questa una delle linee di sviluppo nella testa della Giunta Pardini ed anche le dichiarazioni degli ultimi giorni lo confermano. Mentre la città attende la nuova edizione del Lucca Film Festival dal 23 settembre al 2 ottobre l'assessore al turismo Remo Santini parla di fare di Lucca ancora di più una città per sette produzioni cinematografiche all'indomani della fine della ripresa in città di una produzione indiana. Lo è stato in passato per importanti produzioni cinematografici nazionali e internazionali può tornare ad esserlo in futuro ed oggi a Palazzo Orsetti si è aggiunto un tassello in più. Il sindaco Mario Pardini assieme ai vertici del Lucca Film Festival ha ricevuto Philip Lee uno dei produttori del film del Revenant, film che è valso a Leonardo DiCaprio l'Oscar come miglior attore. Un altro modo per ribadire che l'amministrazione sul tema vuole mantenere le promesse.